Ben ritrovati amici telespettatori. Ormai, come potete vedere, leggere attraverso gli organi di informazione, ascoltare attraverso la radio, quindi non soltanto TV giornali ma anche la radio, insomma siamo nel pieno di una campagna elettorale dove i toni sono come di consueto sempre accesi, ma dove difficilmente ci può essere una sorta di bussola per orientare i telespettatori, i radioascoltatori, i lettori a comprendere meglio quali sono le ragioni dell'una e quali dell'altra parte. E quindi con la prospettiva di queste elezioni per il Parlamento europeo, che riguarderanno praticamente tutti gli italiani, e per eleggere i consigli comunali in diverse città e paesi, in questo clima è difficile orientarsi, soprattutto perché anche le campagne elettorali, come dicevamo sono caratterizzate più da scontri con contenuti talvolta demagogici, talvolta estremamente critici, che da contenuti che fanno capire effettivamente quale linea politica una determinata forza intende portare avanti nell'ambito del luogo pubblico dove ci si candida a portare avanti un discorso di maggioranza. Questo poi di fatto si traduce in un sempre maggiore astensionismo. Forse è questa la ragione per cui il Corriere della Sera ieri ha ospitato in prima pagina all'inizio e poi a pagina 28 la maggior parte del testo di un articolo a firma di Dacia Maraini, che è una sorta di invito al voto, è un'espressione di un sentimento di affezione verso questa conquista, così verrà chiamata, ma fra poco leggeremo, che gli italiani e soprattutto le italiane hanno potuto ottenere a partire dal 1946, quando c'è stato il suffraggio universale. E quindi Dacia Maraini cerca di convincere il sempre crescente numero di persone che si astengono dall'andare a votare o che pur andando a votare non esprimono una propria preferenza per l'una o per l'altra delle varie forze politiche a compiere il proprio dovere civico. E allora cominciamo con la prima pagina del Corriere della Sera di ieri. Il titolo che troviamo in taglio alto, sotto il titolo di testata, è Chi è sedotto dal non voto? Ovviamente firmato da Dacia Maraini. Nell'occhiello leggiamo Democrazia e diritti. E poi vediamo come inizia l'articolo della scrittrice. Cosa spinge tanti cittadini italiani che per secoli si sono battuti per ottenere il voto e che lo hanno raggiunto da poco, soprattutto le donne, a decidere di non andare a votare. Quindi diciamo che la prima pagina si apre con una domanda, con un interrogativo. E poi all'interno, a pagina 28, c'è una sorta di analisi che non è un'analisi scientifica ma una sorta di tentativo da parte della scrittrice di leggere attraverso le proprie esperienze personali, soprattutto attraverso i contatti con gli studenti, il mondo della scuola nel quale spesso è immersa per tenere incontri e conferenze. Questo crescente astenzionismo che, a quanto dice lei, e lo vedremo tra poco, colpisce soprattutto le fasci più giovani degli elettori. Faceva riferimento Dacia Maraini anche alla conquista che le donne soprattutto hanno fatto da poco del diritto di voto, da poco relativamente. Parliamo, come ho già accennato, del 1946, quando per la prima volta hanno votato le donne italiane per eleggere i deputati dell'Assemblea Costituente per decidere fra le due forme istituzionali possibili, quella repubblicana e quella monarchica. Proprio a questo, diciamo, traguardo raggiunto dalle donne italiane, dopo una lunga attesa, tra l'altro di recente è stato dedicato anche un film che ha peraltro ottenuto una serie di premi al Davide Di Donatello, un film che ha segnato l'esordio alla regia di Paola Cortellesi. Quindi davvero è un tema di grande attualità in un periodo appunto caratterizzato dalla lunga vigilia delle elezioni da questa intensa campagna elettorale. Ma andiamo a pagina 28, cercheremo di stralciare un po' di, diciamo, espressioni che Dacia Maraini riporta nel suo articolo sul Corriere della Sera di ieri. Mi trovo spesso nelle scuole con ragazzi e ragazze che stanno per compiere i 18 anni e presto dovranno votare. Chiedo loro se lo faranno? Molti mi dicono sinceramente di no. Chiedo il perché e la risposta è più o meno sempre la stessa. Non credo più nella politica, non mi fido di nessuno. I loro discorsi non mi riguardano. Faccio notare, continua Maraini ricordando questi colloqui con gli alunni delle scuole, faccio notare che il non voto purtroppo non conta niente, non è un parere che cambi le cose, ma crea solo un vuoto in cui spesso si infila chi ha magari idee contrarie alle proprie. Ed eccomi riflettere su questa svogliatezza e su questo disinteresse nei riguardi di uno dei diritti fondamentali in democrazia. Mi viene un dubbio crudele. Che sia la democrazia stessa con i suoi diti virali, le sue regole di uguaglianza a destare sospetti e antipatie? Mi viene da immaginare che il mondo intero si stia innamorando di un pensiero seducente che riguarda una società idilliaca fatta di regolarità rassicuranti e di una pace imposta. Un sentimento che affida la sua sorte ad una oscura autorità, non importa se violenta o rapace, purché dia l'impressione di poter affrontare il nemico. Un pensiero che rifiuta la logica, la conoscenza del passato, la riflessione razionale, ma aspira ad una mitizzazione di idee astratte ed eroicizzanti. So già cosa mi si obietterà. Che il mondo cambia per l'avvento delle tecnologie, per le spinte geopolitiche, per le complicazioni economiche, per l'avidità dell'industria delle armi, non per ragioni emotive, per quanto diffuse. E questo certamente è vero, ammette la scrittrice. Ma non sottovaluterei l'aspetto emozionale profondo, contagioso, come una malattia che corre da continenti a continente, creando nuove aspettative, certe di poter superare le conquiste di secoli, come la democrazia e i diritti civili. C'è qualcosa di profondamente irrazionale in questa attesa messianica di un futuro di sfavillanti certezze gerarchiche, pronte a garantirci una stabilità eterna. Le nazioni, secondo questo criterio, dovrebbero tornare ad essere autonome e chiuse dentro confini stabiliti. Tutto questo in nome del popolo, che secondo questo pensiero desidera da anni e chiede ossessivamente governanti nuovi, eroici, capaci di imporre una volontà severa e senza dubbi, con la sicurezza di chi ha la verità dalla sua parte. Prego soprattutto i giovani di andare a votare, perché il voto è un prezioso tesoro che abbiamo ottenuto con tanti sacrifici, perché il non voto non conta niente, ma crea solo dei vuoti che vengono riempiti dai più prepotenti. Questo ovviamente è sintetizzato, ho letto gli stracci più significativi, il pensiero di Dacia Maraini, riportato ieri, tra la prima e pagina 28 del Corriere della Sera. Ovviamente, ripeto, quella della Maraini è un'analisi non di tipo scientifico, non nata da una sorta di indagine fatta attraverso un o una serie di campioni prestabiliti e determinati dalle scienze statistiche. È una valutazione che nasce da questi colloqui con i ragazzi, alcuni dei quali ancora non giunti all'età del voto, ma ormai prossimi ad avere questa possibilità. Ed è un'analisi che si basa su quei sentimenti che lei ha percepito nei dialoghi, sentimenti emotivi che appunto si riconducono alle aspettative di una quasi cessione della possibilità di governare data ai cittadini, quasi che i cittadini, soprattutto i nuovi cittadini maggiorenni, stiano abdicando a questa possibilità di scelta, a questa possibilità di farsi rappresentare in maniera cosciente da persone liberamente scelte nelle istituzioni pubbliche. In realtà forse questa analisi può essere il punto di partenza di una valutazione che noi cercheremo di fare in maniera più rigorosa. Anche perché, ripeto, questo fenomeno non è di queste elezioni, non sta affiorando in questo periodo, è un fenomeno che si sta notando in tutte le tornate elettorali e si manifesta con dei ritmi sempre crescenti. Non c'è neppure un tentativo di tornare ad una partecipazione come quella che ha caratterizzato i decenni passati. Quindi è una situazione che va analizzata e vanno analizzate le ragioni portate dalla Maraini ed eventualmente altre ragioni che possono aver portato a questa disaffezione, a questa mancanza di fiducia, che poi alla fine si traduce in mancanza di delega perché non si può delegare una persona di cui non si ha fiducia. Infatti le espressioni che ha usato la Maraini carpite dal colloquio con i ragazzi sono non credo più nella politica, non mi fido di nessuno. E quindi alla fine l'argomento di fondo che emerge è una mancanza di fiducia. Quindi per capire, per cercare di capire che cosa sta succedendo negli ultimi decenni nella democrazia rappresentativa italiana, per cercare di dare qualche motivazione in più a quelle espresse da Dacia Maraini sul Corriere della Sera a tornare a votare o ad andare a votare per quei giovani che si affaceranno per la prima volta a questo diritto. Nella seconda parte avremo un collegamento con il professor Angelo Chielli che è docente di filosofia politica presso la Facoltà di Scienze Politiche all'Università degli Studi Aldo Moro di Bari con cui cercheremo di analizzare il fenomeno e cercheremo anche di dare visto che lui tra l'altro essendo docente ha continui contatti anche con i giovani qualche indicazione per adulti e più giovani qualche suggerimento in più qualche spinta emotiva in più per andare a votare. Tra pochissimo, restate con noi. Come preannunciato in questa seconda parte di Teleobiettivo cercheremo di fare un'analisi un po' più approfondita e più rigorosa di questo fenomeno dell'astenzianismo di cui si è occupata appunto Dacia Maraini in questo articolo pubblicato sul Corriere della Sera di ieri. Siamo collegati con il professor Angelo Chielli docente di filosofia politica presso l'Università degli Studi Aldo Moro di Bari Facoltà di Scienze Politiche. Allora, anzitutto questo elemento di fondo che emerge dall'articolo della Maraini sembra farci propendere per una sorta di crescente mancanza di fiducia nei confronti della politica. Gli studenti con i quali lei ha avuto colloqui parlano di non credo più nella politica, non mi fido più di nessuno. Sembra appunto che stia venendo meno questa sorta di atteggiamento di fiducia ma l'astenzionismo viene da lontano. È sempre questo dalle analisi che sono state fatte anche in maniera scientifica il motivo per cui la gente non sta andando più a votare? Allora, dall'articolo della Maraini emerge in effetti questo aspetto di un atteggiamento di disinteresse oramai nei riguardi delle elezioni politiche e in generale della sfera politica. Però vorrei aggiungere alcuni elementi che mi paiono interessanti. Innanzitutto il punto è che oramai da molti decenni c'è una sorta di sfiducia ma in parte alimentata dalla sfera politica stessa. Cioè assistiamo a una serie di fenomeni, ne cito alcuni. Primo, lo spostamento verso sedi non elettive della decisione politica. Cioè la decisione politica avviene in luoghi che non sono più quelli in cui noi eleggiamo i nostri rappresentanti. Questi fenomeni, è il caso dell'Unione Europea, da questo punto di vista è eclatante. Noi votiamo per il Parlamento Europeo, ma nell'architettura costituzionale e istituzionale dell'Unione Europea abbiamo oltre al Parlamento Europeo la Commissione e il Consiglio di Europa. Ebbene questi due organi sono organi che hanno funzioni decisorie mentre il Parlamento Europeo ha una funzione sussidiaria. E anzi, solamente negli ultimi cinque anni, dall'ultima elezione il Parlamento Europeo ha assunto una qualche funzione anche codecisoria. Precedentemente no. Quindi questo ci fa capire che quella svogliatezza, quella sfiducia nella sfera politica dipende anche dal fatto che la scelta elettiva non incide più direttamente sulle scelte, sugli orientamenti o sulle opzioni politiche di un organismo politico come ad esempio l'Unione Europea o i singoli Stati. Quindi c'è una ragione, non è semplicemente un cambiamento antropologico per cui le elezioni politiche interessano meno. E la consapevolezza, anche se l'elettorato medio magari non si rende conto dell'architettura europea, faccio sempre il caso dell'Unione Europea perché le elezioni sono imminenti, anche se non si rende conto, però percepisce il minor ruolo di prestigio del Parlamento ai fini decisionali. Faccio un ulteriore esempio. Se guardiamo le grandi lobby, e sappiamo che presso l'Unione Europea ci sono un numero enorme di lobby accreditate e di lobbisti, ebbene soprattutto le grandi lobby economico-finanziarie non hanno quasi nessun contatto con il Parlamento Europeo, mentre hanno un numero spropositato di contatti con la Commissione Europea perché sanno bellissimo che quello è il luogo in cui si decide. E quindi se vogliono appoggiare un loro progetto e così via, devono andare laddove effettivamente si prendono le decisioni. E i terremoti politico-giudiziari che periodicamente riemergono e che a partire da Tangentopoli ogni tanto caratterizzano anche l'informazione di noi che da lettori, da uditori di radiogiornali, da telespettatori poi andiamo a votare. Adesso per esempio andremo a votare con due terremoti che hanno travolto due regioni. Questi sono altri elementi che inducono sfiducia nella politica? Indubbiamente. L'elemento della corruzione, ovviamente non sto dicendo che nelle due regioni che lei citava abbiamo già acquisito che quei comportamenti sono leciti o illeciti. Tralasciamo questo aspetto. Sappiamo che in passato abbiamo avuto notevoli, in questo caso con sentenze anche passate in giudicato, quindi possiamo parlare con tutta tranquillità di scandali, di fenomeni di corruzione. Però questo aspetto, pur essendo fondamentale, perché vediamo il caso di Genova ad esempio che è un po' più evidente, ovviamente non è un giudizio quello che sto dando sul caso di Genova, ma supponiamo che alcuni fatti fossero provati. E' chiaro che anche qui abbiamo che non è più valido l'idea liberale di una testa, un voto. Evidentemente ci sono alcune teste che pesano molto di più ai fini della decisione politica. Ma questi scandali comunque non sono tipici solo di questo periodo. abbiamo avuto anche scandali forse anche maggiori in periodi in cui la partecipazione elettorale in Italia sfiorava addirittura o superava il 90%. Ciò che incide, secondo me, e ritorniamo a ciò che le dicevo precedentemente, è sempre la percezione che è della inutilità del voto. Per le stesse cose che dicevo prima, evidentemente ci sono circuiti differenti che determinano le scelte politiche rispetto invece a quello che solitamente immaginiamo del circuito, elettori, rappresentanti, governo a livello regionale, a livello nazionale o a livello europeo e così via. Cioè, ovviamente, siamo di fronte, e a questo sicuramente è un elemento che incide maggiormente, ad una inversione del rapporto fra politica ed economia. Mentre negli anni, diciamo così, dei partiti di massa, la politica, la sfera politica, politico-rappresentativa e quella parlamentare ovviamente, aveva o perlomeno riusciva a contenere le spinte che provenivano dalla sfera economica, a partire dalla rottura degli anni, fine anni 70, inizi anni 80, la sfera economica è debordata e quindi la sfera economica sappiamo che non ha nulla di democratico, lì conta il denaro, conta la potenza economica. E questo aspetto conta oggi anche nei confronti della politica e genera un ulteriore elemento di sfiducia nei confronti di un elettorato che si sente sempre più, diciamo così, inutile, usiamo questa espressione, ai fini della determinazione degli indirizzi politici. Questo fenomeno ovviamente è un fenomeno che non riguarda solo l'Italia, cioè la privazione da parte della sfera politico-economica dell'indirizzo reale del cittadino. E quindi mi chiedo, anche negli altri paesi europei che sono nella stessa condizione nostra in cui i cui cittadini si sentono defraudati di questo diritto di scelta, sebbene attraverso la democrazia rappresentativa, anche in altri paesi si avverte un crescente astensionismo? Sicuramente. Ricordavo prima che gli anni 50, 60, ancora negli anni 70, l'Italia si caratterizzava tra i paesi europei come uno dei paesi in cui il maggiore era la partecipazione dell'elettorato. Abbiamo come controprova il fatto che negli Stati Uniti, che è un paese che rispetto all'Europa e in particolare rispetto all'Italia anticipa molto prima alcuni fenomeni, questo aspetto della disaffezione elettorale era molto precedente, anche perché sappiamo che negli Stati Uniti il peso delle forze e delle lobby economiche nella campagna elettorale è molto maggiore, anche se molto più regolamentata rispetto all'Italia, rispetto a quanto accade nel nostro paese e anche lì abbiamo che vi sono fasce, soprattutto quelle da un punto di vista economico e culturale più povere che rinunciano alla partecipazione elettorale. Un'ultima domanda che è più prettamente relativa alla materia del suo insegnamento. Dacia Maraini sottolinea che quello a votare è uno dei diritti fondamentali in democrazia, ma non usa mai un'altra verità che riguarda il diritto di voto. Il voto è un diritto ma è anche un dovere? Certamente, lei ha perfettamente ragione. Il punto è questo a mio parere. Negli ultimi, diciamo così, all'incirca nell'ultimo quarto di secolo, è mutato completamente il quadro politico, non solo italiano, ma anche a livello europeo. Cioè sono venuti meno quegli agenti di socializzazione che lungo tutto il Novecento hanno incanalato e portato al livello dello Stato le masse popolari, cioè i partiti politici. Attraverso quello strumento il diritto era un voto, un dovere, un diritto e un dovere. Non dimentichiamo che le campagne elettorali del passato avvenivano per la maggior parte non attraverso gli strumenti che oggi conosciamo della televisione, dei social, ma avvenivano porta a porta, cioè attraverso un coinvolgimento di massa di quella figura che è oramai scomparsa del militante politico. E quindi questo ha mutato in una maniera quasi antropologica l'elettorato, non solo italiano ma anche europeo. Ed è in dubbio quello che lei diceva riprendendolo dall'articolo della Maregni. Cioè noi avvertiamo questo come un diritto, anche se è un diritto che esercitiamo sempre in misura minore e non lo avvertiamo più come un dovere, come un obbligo. Ricordo che durante la Costituente si discusse addirittura se dover in qualche misura rimarcare coloro che non andavano a votare. Poi ovviamente non si scelse questa strada quasi di creare uno stigma su chi non si recasse alle urne, ma questo ci fa capire come il Costituente riteneva importante che il cittadino si recasse alle urne. Ringraziamo allora il professor Angelo Chielli per averci aiutato a capire le ragioni di questo crescente astensionismo. Ci auguriamo che nel nostro piccolo, attraverso questa riflessione, potremmo aver indotto qualcuno a cambiare idea o quantomeno a riflettere prima di decidere definitivamente di non recarsi alle urne. Lo speriamo, ce lo auguriamo. E grazie anche a voi amici telespettatori per averci seguito anche oggi. Ciao! 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 Ciao!